Allora Gonzala, che è successo oggi nella partitaccia? Io credo che il risultato sia quello che si è visto in campo. Credo che fino ai ultimi 25 minuti abbiamo giocato bene, abbiamo avuto la palla. Forse non abbiamo creato le situazioni per fare gol, però è una partita difficile e abbiamo perso. È stato il ritmo, è stata la forza fisica, cosa vi ha messo un po' più in difficoltà? No, le situazioni della partita, la prima che arrivano ti fanno un gol, la seconda ti fanno un altro gol e il liceo ti fa più difficile. Adesso come ripartire? C'è il Napoli, poi la Roma? Adesso, dopo oggi, domani iniziamo a pensare nella partita di Napoli, che è una partita difficile e che per noi è importantissima. Ci speravate, però stasera ci credevate, avevate parlato, tra l'altro tu avevi sferato il 2-1 nel finale all'andata contro gli inglesi. Non so, come l'avevate preparata? Avevamo fiducia in noi stessi, che potevamo farla. Non l'abbiamo fatto così, sono partite che è meglio dimenticare e pensare nella prossima. Qual è adesso il vostro obiettivo? Consolidare il terzo posto, provare la prova in secondo? No, vincere la domenica. Credo che abbiamo andato al piano e pensare nella partita di Napoli, che è un'altra finale per noi. A livello internazionale, l'impressione che le squadre italiane non siano una bautizia di intensità, dell'aspetto fisico, dell'aspetto agonistico rispetto alle squadre più forti del fanciano. No, non credo che sia così. L'anno scorso siamo arrivati a semifinale, la Juve è arrivata a finale della Champions, quindi non credo che sia così. Grazie a Gonzalo.